Forse diamo fastidio a qualcuno, ci vogliono mandare via da qui con questo modo di fare mafioso, rompendo e spaccando attrezzature, portando via pezzi di motori nautici per qualche centinaio di valore di euro, come eliche ed altre parti, facilmente però repelibili in rete. E' sconsolato Licio Gabrielli, responsabile del circolo nautico di Baia Metauro Tortuga, ho anche capito da dove sono venuti, da dove se ne sono andati, ci dice questa mattina ho trovato i pezzi per strada quando sono venuto ad aprire oggi. Le intimidazioni, ecco come le chiamerei io, intimidazione più, perché come valore, cioè anche al limite sono più i danni che fanno che il valore asportato. Poi mi soglie sempre un sospetto che tutta questa roba rubata venga poi rivenduta su internet. Io penso che siano anche dei furti proprio mirati anche su commissione per rivenderli. Qui ci sono barche dei soci, un po' di tutti i tipi, grandi picchi. Ma un po' di tutti i tipi, la bellezza che qua vengono da tutta Italia. Due ride nel giro di mese sono davvero tanti, anche perché da dieci anni di vita del circolo a questa parte non era mai successo e anche su questo Gabrielli ha la sua opinione. Fino a dieci anni fa avevo costruito abusivamente, lo dico senza ombra di vergogna perché mi hanno anche processato per questo affare, una capanna, era una capanna con una piccola luce, di notte qualche volta ci dormivo, qualche volta, però lasciava sempre il dubbio che c'era qualcuno e in dieci anni non hanno mai toccato neanche un sasso. Dall'anno scorso sono stato costretto a demolirla perché il comune mi ha dato l'ultimatum, è stato demolito e sono iniziati furti. C'è stato anche un atto di vandalismo scoperto dai frequentatori del posto, un danneggiamento di un'auto di una turista parcheggiata vicino alla rimessa, ma stando alle considerazioni dei soci i due fatti sarebbero contestuali ma non legati ai furti. Non avrebbe senso, ci dicono, che un ladro viene qui, porta via della roba e poi prima di squignarsela spacca mezza macchina, così tanto per fare qualcosa, invece di pensare a scappare il prima possibile. Mi dispiace molto, diciamo, perché ti ho detto, è una bella spiaggia, poi noi anche con le barche contribuivamo a dare un piccolo soccorso in mare, oppure anche a tenere pulito perché se guardi bene vedi che è bello, non vedi la sporcizza, quindi noi teniamo molto pulito, ci teniamo. Scoramento, un po' così, uno si lascia un po'. Sì, perché dopo anche i clienti, quando i clienti non sono soddisfatti, capito, se ne vanno, non vengono, vanno da altre parti e quindi ti creano un senso di sconforto, chiamiamolo così.